Quella ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video vlog, sto uscendo per andare a prendermi il caffettino Allora, mi è arrivato anche questo pacco da Amazon, dovrebbe essere, se non sbaglio mi sa, una luce per la videocamera E anche ragazzi, mi è arrivata la nuova SD, una Samsung Evo 64GB, classe 10 U3, quindi una SDXC per poter anche registrare in 4K Allora, poi dopo apriamo anche il pacchettino qua per l'appunto che mi è arrivato, ecco qua, chiudi, chiudi ti cancello, grazie caro Fatemi vedere prima che sta cosa qua a zobba a terra, perché se mi ci a zobba a terra la videocamera stava a posto Allora ragazzi, a parte il fatto che comunque sia mi è già cascata una volta a terra sta benedettissima videocamera, raga, e mi ci sono messo veramente tanto tanto paura Sono onesto, raga, mi ci sono messo tanto paura per quanto riguarda per l'appunto questa benedetta videocamera, perché è una videocamera veramente molto molto utile Macchina, che c'hai? Ogni tanto sento sta macchina che non ci va bene come devi andare, non va bene, cioè ogni tanto fa blu blup e blu blup e blu blup Cioè, va a scatti proprio in una maniera incredibile ragazzi, incredibile Allora, ragazzi, purtroppo vi ho caricato anche l'altro video, oh, e che cos'è? Mannaggia te Allora, ragazzi, dicevo, oh, e beh, e che c'hai mo? Che c'è? Sto a parlare io e te stai ad emozionare? Come funziona? Allora, dicevo ragazzi, vi ho caricato l'altro video di Metal Gear Solid V, soltanto che purtroppo non è che l'avete preso poi così in tanta considerazione sto video, eh Vabbè, però, comunque sia d'accordo, ehi, calma ciccio, andovai Dicevo, non è che l'avete pigliato poi così tanto alla leggera sto video che vi ho caricato, nuovo video di Metal Gear Solid V con la missione numero 5 per l'appunto E, eh, niente ragazzi, e purtroppo non ci avete fatto caso, eh, calma, non ci avete fatto caso per l'appunto a quel determinato video Ma io ragazzi spero che per l'appunto a questo video farete caso perché è un nuovo video vlog dove per l'appunto sto uscendo andando a prendere il caffè Tu qua dietro vai piano caro, non sta a rompermi le perotas E poi dopo apriamo anche il pacco insieme, quindi sarà un video vlog barra unboxing di nuove robe, nuove cose Ecco qua, perfetto, io ragazzi sono arrivato, bravo caro che ti sei levato da davanti alla ciolla L'hai capito tanto tanto bene caro Eccomi qua ragazzi Allora, io per l'appunto vado a prendermi il caffè, poi dopo ritorno e facciamo anche il video unboxing A tra poco ragazzi Ok ragazzi, eccomi qui Allora, ho preso il mio bellissimo caffettino Ora tra un po' ce ne ritorniamo a casa e per l'appunto ragazzi ho preso anche un'altra cosa che vi faccio vedere Per l'appunto Dov'è che li ho messi? Eccoli qua Sono due Kinder Cereali ragazzi, i miei preferiti Kinder Cereali Allora, come detto ragazzi, ribadisco che andremo ad unboxare adesso insieme questo qui Quindi lo andremo ad aprire adesso insieme E niente ragazzi Dai, allora Qui è anche arrivata un'altra commessa al lavoro Io invece me ne ho Non vi preoccupate ragazzi, la carta la tengo Facciamo così Dato che mi stanno a guardare tutti qua davanti a sto bar E mi ci dava un fottiglio di fastidio che mi guardano Facciamo così ragazzi, mi ci sposto leggermente un po' più avanti qua Almeno così non mi può vedere nessuno Almeno così sto in tutta tranquillità e insomma senza dare conto a nessuno A parte il fatto ragazzi che mi ci devo anche sbrigare perché ho un po' di commissioni da fare anche oggi Allora, mi ci accendo anche la sigaretta nel frattempo Ecco qua, che dite ragazzi andiamo a spacchettare questo? Eh? Che dite? Lo andiamo a spacchettare adesso insieme? O lo faccio a casa? Io non lo so ragazzi, direi proprio farlo proprio adesso Tanto sono le due Sì, sono le due Per le due e mezza devo essere a casa Anzi, prima delle due e mezza devo essere a casa Perché come hai detto devo andare a fare delle altre commissioni Quindi non vorrei fare tardi Allora, ok, ho finito anche di fumare Allora, andiamo a spacchettarlo insieme Eccolo qui Ed eccolo qua Ah, ecco che cos'è ragazzi Questo qui è un LED che si carica automaticamente Allora, lo vado a... Oh, che bello Allora, abbiamo anche il cavetto USB micro... No, USB di tipo C Che si va a collegare per l'appunto Al dispositivo per farlo ricaricare Quindi non ha batterie in dotazione Ed eccolo qui il piccolo prodottino Preso su Amazon Pagato veramente pochissimo Ma veramente pochissimo Aspettate ragazzi Che lo vado a spacchettare Eccolo qua Ok Ed eccolo qui Ragazzi, è veramente molto molto piccolino Vedete, c'ha per l'appunto tre slitte Una Due E tre Sotto Per poterlo agganciare sulla videocamera Mentre sulle tre slitte Ovviamente abbiamo la possibilità Di poter inserire un microfono O un'altra luce di questa Al lato O sopra O all'altro lato E il microfono per l'appunto sopra Oppure magari con un'altra lucetta Di questa qua sopra Con il microfono Verso di me Ragazzi È una cosa veramente fatta benissimo È leggermente Pesante Oddio Oh maronne santissima raga Fa veramente luce Allora qua ci stanno ben tre tipi di modalità Allora abbiamo su off Love e IG Sull'off diciamo che abbiamo una Maggiore scarsa luce Mentre su IG è veramente molto molto acceso Ecco Ben tre tipologie di luci Di potenza di luce E per l'appunto ragazzi Questa qui la posso utilizzare anche come una torcia O come anche una luce Il cavetto micro Il cavetto usb di tipo c Per l'appunto Sì tipo c Perché per l'appunto ragazzi Ci sta scritto qua di tipo c Posso anche andare a ricaricarla Tramite il mio tra virgolette pc O magari anche tramite corrente a parete Ed eccolo qua ragazzi Diciamo che è veramente un'ottima cosa E' un Ando Air Che vi lascio il link qui sotto qui In descrizione per l'appunto E niente ragazzi La devo soltanto provare al buio Vedere un attimino come va Eccetera eccetera Raga veramente un ottimo acquisto Pagato intorno ai 12 euro Perché c'erano degli altri Che costavano anche un po' leggermente di più Ma dato che portavano per l'appunto Le batterie esterne Quindi andando a comprare batterie Stilo AAA o BBB o CCC Per l'appunto sono andato direttamente con questo qui Che si ricarica automaticamente Tramite il nostro pc Come detto prima O portatile o fisso O magari anche a parete Con un caricabatteria a parete Ragazzi lo trovo veramente molto molto utile Per il semplice fatto che c'ha ben tre slitte Per l'appunto E posso andare a mettere anche tre luci Ovvero altre due luci laterali E una sopra Sempre della stessa marca Sempre con la stessa fragranza di questo qui E per l'appunto posso andare a metterci il microfono sopra Veramente un ottimo prodotto Io ragazzi ve lo consiglio E' minuscolo Tascabile Me lo posso portare dietro Non pesa tantissimo Di colore nero lucido Un po' tra virgolette Un po' satinato Ecco dietro è lucido Mentre sulla parte superiore qui E' un po' leggermente Come vi posso spiegare Un po' ruvido ecco Però ragazzi Ribadisco che lo sto adorando alla follia Devo soltanto provarlo Quando sono al chiuso Ovvero al buio Niente ragazzi Niente Questo qui per l'appunto Era un video vlog Anche barra unboxing Almeno così Vi ho fatto vedere Un po' di queste cosine Eccetera eccetera Allora lo arrivato a chiudere Perfetto Ok Dai ragazzi Allora io ora Me ne ritorno tanto a casa Perché comunque sia Me ne ritorno a casa L'unboxing insieme L'abbiamo per l'appunto fatto E niente Sono molto molto contento A parte il fatto che mi era arrivato Proprio quando ho iniziato A fare questa registrazione Questo nuovo vlog Devo dire ragazzi Che i tempi di spese Di spedizione Sono stati veramente Molto molto Precisi Per il semplice fatto che Non mi è arrivato in ritardo È arrivato in anticipo Perché mi doveva arrivare Ben venerdì Ovvero domani Invece ragazzi Mi è arrivato oggi E anche la memory card Ovvero la SD Della Samsung La Evo La 64 GB Per la videocamera Che sto utilizzando Per l'appunto adesso È arrivata anche oggi Quindi un prodotto Mi è arrivato entro luna Ora di pranzo Mentre questo qui Per l'appunto Il flash Barra faretto Mi era arrivato Per l'appunto Quando sono appena uscito Per farvi questo video vlog Sono arrivato Sto veramente molto molto contento Della spedizione A parte il fatto che Comunque sia d'accordo Ho usato Amazon Prime Ho usato Amazon Prime Per questo tipo di spedizione Ecco perché Per l'appunto Mi è arrivato prima Però ribadisco Che per il LED 42 Per questo LED A 42 LED Per l'appunto Mi doveva arrivare Domani Come vi avevo detto prima Purtroppo Cioè non purtroppo Meno male raga Che mi è arrivato oggi Perché questo qui Per l'appunto Lo userò Quando devo Fare per l'appunto Videovlog Diciamo Al buio Oppure magari Utilizzarlo Come Una Luce Barra torcia Attascabile Portatile Molto utile Ragazzi Veramente Ok Dunque Allora Come detto Calma Ciccio Perché mo Che siamo arrivati a casa Che c'è Te emozioni Allora Io ragazzi Sono arrivato a casa Spero che questo video vlog Vi sia piaciuto In descrizione Della infobox Di questo video Vi lascio Per l'appunto Il link Per questo oggettino Che veramente E dai Eh Una botta Vale l'altro E vei come si accende tutto Dicevo ragazzi Per l'appunto Vi lascio il link In descrizione Qui nella infobox Di questo nuovo video Per chi fosse interessato A questo oggetto Che è veramente Ok Ve lo consiglio Non costa tanto Tascabile E tutto Niente ragazzi Io concludo qui questo video Spero innanzitutto Che vi sia piaciuto E se è così Mi raccomando Lasciate like Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina E noi ci rivedremo Molto presto Con un nuovo video Ciao ragazzi Ciao